Andrea io comincerei da te proprio perché tu poi ci dovrai lasciare perché hai una riunione di redazione mentre con Renate staremo fino alla fine della trasmissione perché così ci racconti anche le vostre esperienze, le esperienze del tuo giornale perché anche lì da voi, insomma voglio dire, vi siete occupati moltissimo di questa questione della censura la censura viene dal potere Stati Uniti partono ovviamente con un'idea di censura a 360 gradi sulla vicenda Covid approfittando del Covid ma accentuando poi il problema, accentuando poi il principio della censura con l'istituzione di un vero e proprio Ministero della Verità vedremo poi come Andrea dacci intanto un primo spunto, prego Allora guardate, lo spunto che vorrei condividere io oggi è uno spunto legato al nostro lavoro di giornalisti in rapporto a come i social riescono a entrare dentro il nostro lavoro parto da alcune suggestioni, diciamo così tu giustamente hai parlato di potere, il potere che censura Ora, il potere non è più il potere politico, non è più il singolo, il senatore che può mettere il bavaglio al giornalista di turno è un potere sovranazionale, è un potere molto più onnicomprensivo, molto più pervasivo che si serve anche di tutte quelle organizzazioni internazionali che dominano anche la stessa politica e della quale la politica è subordinata Ora, noi durante il Covid abbiamo, come giustamente tu hai detto, ci siamo occupati di tutti gli aspetti critici della gestione della pandemia dai lockdown alla imposizione del Green Pass al silenziamento di tutte le manifestazioni di dissenso dai portuali di Trieste delle grandi manifestazioni anti-Green Pass fino alla campagna vaccinale e alla imposizione appunto dei vaccini e i conseguenti effetti avversi Ebbene, noi abbiamo ricevuto dai social un trattamento molto ingiusto a nostro modo di vedere perché le nostre notizie sui social sono state fondamentalmente oscurate perché vedete la censura, questo è un elemento sul quale poi con l'avvocato Stasen si potrebbe anche discutere la censura non impone in maniera violenta non interviene in maniera violenta a parte alcuni casi, perché non dimentichiamo che i social del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump vennero oscurati proprio in occasione della campagna elettorale però solitamente la censura interviene in maniera molto più subtola attraverso questo sistema diabolico che si chiama shadow ban sostanzialmente tu sei bannato ma non lo sai o meglio te ne accorgi perché vedi che nessuno legge i tuoi post questo accade, scusami Andrea, questo accade e spieghiamolo al pubblico che ci ascolta lo shadow ban che cos'è? è una pratica che pongono in essere i grandi colossi del web Google in primis ovviamente perché è sostanzialmente il monopolista delle ricerche degli utenti in rete cioè di quello che vi propone tra l'altro detiene anche il sistema operativo degli apparecchi telefonici più diffusi nel pianeta che è il sistema Android quindi quando tu entri dentro tra applicazioni preinstallate e sistema di ricerca quando tu cerchi qualcosa la prima cosa che ti propongono le notizie è che vogliono loro loro ti propongono di tenere sul tuo desktop del tuo cellulare o dell'apparecchio ma adesso anche delle smart tv cosa? le notizie del momento in primo piano ma le scelgono loro ecco, scegliere le notizie in primo piano o addirittura non farti comparire nelle ricerche che fai su Google su altri motori di ricerca quello si chiama shadow ban cioè ti dicono ti fa diventare di fatto un fantasma ti fa diventare di fatto un fantasma esatto esatto allora questa cosa ha una spiegazione in rapporto al Covid ma poi la possiamo estendere anche ad altre tematiche molto divisive come la crisi degli agricoltori come il tema del Green New Deal e della riconversione ecologica noi spesso noi l'abbiamo scritto lo avete riportato anche voi ma la grande stampa a queste cose tende a nasconderle tutto questo non serve essere complottisti o immaginare chissà quale grande vecchio nasce da un accordo nasce dall'accordo che ad esempio nel caso del Covid l'OMS ha fatto con i grandi colossi del web con i grandi colossi dei social noi avevamo scritto anche dell'accordo che l'OMS ha fatto con Mark Zuckerberg il patron di Facebook e guarda possiamo già vedere possiamo vedere quest'articolo di Stefano Magni del 2020 già il 2 settembre del 2020 Stefano sulla nuova bussola quotidiana scriveva l'OMS controlla l'informazione sulle orme della Cina adesso fra poco lo dovremo vedere anche in video per le persone che ci stanno seguendo anche in tv questo che cosa ha voluto dire questo ha voluto dire che in seguito a questo accordo tra l'altro stipulato tra un soggetto privato come Facebook e una organizzazione diciamo sovranazionale che non è sovrana però ma che si arroga un diritto di sovranità tante informazioni sul Covid sono poi finite dentro quel grande burrone del fake news del complottismo perché chiunque provava a portare avanti gli elementi di una verità più profonda e più alternativa sulla gestione della pandemia sugli effetti avversi veniva automaticamente tacciato all'origine di essere appunto complottista propagatore di fake news e anche noi abbiamo subito questo destino io penso che il problema principale dei social sia questo un potere che gli è stato dato anche da organismi sovranazionali di cui la politica è succube e che ormai è incontrollabile perché io molte volte penso ad esempio anche nel mio piccolo alla mia pagina Facebook che non fa dei grandissimi numeri però i miei numeri li ho sempre avuti tutte le volte che tratto di Covid e di vaccini puntualmente io vengo letto da 3-4 persone almeno e che mi dicono ma sarà mai possibile che no il motivo è molto semplice sto parlando di un argomento in un modo che all'algoritmo e ai signori Mark Zuckerberg OMS in virtù di questo accordo non va bene e quindi devo essere e devo finire in fondo devo essere un fantasma sì ecco stavamo vedendo proprio questo l'OMS controlla informazione sulle orme della Cina poi a questo è susseguito tutto un altro terremoto negli Stati Uniti perché non solo l'OMS controlla tutta l'informazione e ha lanciato vedi poi vedete anche Renate vedete cosa scrivono la campagna la chiamano contro la disinformazione sul Covid-19 avvalendosi dell'intelligenza artificiale e delle moderne tecniche di raccolta dati per dare la caccia alle bufale cioè questo è quello che dicono loro cioè io ho un sistema di loro la chiamano intelligenza artificiale ma è un algoritmo ovviamente che serve sostanzialmente a pescare tutte le parole che a loro non piacciono ok e parlano di disinformazione cioè tutto quello che è contrario alle indicazioni di alcuni diventano automaticamente disinformazione viene utilizzata questa parola diventa bufala diventa tutto quello che loro debbono censurare demonetizzare cancellare dalla faccia della terra ma Renate velocemente poi torniamo con la parola ad Andrea perché lui fra poco deve lasciarci ma insomma così sommariamente come prima chiacchiata poi tanto dopo approfondiremo moltissimo questa cosa tecnicamente ma la costituzione le costituzioni dei paesi sono tutte buttate nel cestino cioè voglio dire ormai esiste solo un organismo che poi vedremo è composto è composto da io li chiamo quattro scemi perché poi queste famose commissioni sono dei parlamentari che se tu vai e vedi curricula ti metti a ridere e gente veramente cioè a Roma li chiamano scappati di casa insomma gente che si arroga il diritto di governare sul mondo e sulle costituzioni perché qui da noi vengono censurati contenuti assolutamente normali dopo li vedremo dopo li vedremo bene questi contenuti normali i pareri di premi Nobel parere di professori di Harvard cioè sono stati censurati cancellati nel nome della disinformazione eccetera eccetera ma le costituzioni messe sotto i piedi come la mettiamo Renate? Sì purtroppo sono messe sotto i piedi ormai da più di quattro anni ed è proprio questo se andranno a votare le modifiche al regolamento sanitario internazionale questo maggio allora diventerà ancora peggio perché allora gli stati membri dell'OMS anche l'Italia se non vota contro si obbligherebbero persino a collaborare a questa censura che di fatto già fanno però con le modifiche al regolamento sanitario internazionale che entrerebbe in vigore automaticamente ci sarebbe proprio un obbligo istituzionalizzato alla censura come sappiamo appunto questa lotta alla cosiddetta disinformazione e fake news alla infopandemia cioè il grande rischio proclamato non soltanto dall'OMS ma anche dall'Unione Europea sarebbe proprio l'abbondanza di informazioni c'è una assurdità già in sé e questo il grande tema è proprio questo il grande rischio per la nostra libertà che già stiamo subendo che però non mi stanco a ripetere a ribadirlo se i governi cioè i governi se la popolazione non si sveglia in queste settimane e se non riesce ad aumentare la pressione sui propri rappresentanti politici allora ahimè ne vedremo ancora di peggiori di peggiori è questa la situazione di peggiori